I vaccini anti-covid funzionano e a dimostrarlo scientificamente sono i dati di uno studio condotto in collaborazione tra la ASL di Pescara e l'Università di Ferrara, che ha preso in esame la popolazione di Pescara e provincia, analizzando, nello specifico, 237.778 non vaccinati e 37.467 vaccinati con prima dose, di cui 27.000 circa immunizzati con seconda dose, nel periodo compreso tra il 2 gennaio e il 26 aprile di quest'anno. I risultati dello studio sono stati presentati in conferenza stampa presso la direzione generale dell'ASL di Pescara, dal professor Lamberto Manzoli, coordinatore dello studio e direttore del Dipartimento di Scienze Mediche dell'Università di Ferrara. È uno studio in cui abbiamo confrontato il rischio di infezione da covid, ovviamente, di malattia e di decesso nelle persone vaccinate contro le persone non vaccinate, su tutta la popolazione residente e abbiamo visto un'efficacia del 95% di tutti e tre i vaccini in commercio, che sono ovviamente, li sappiamo, Pfizer, Moderna, AstraZeneca, contro le infezioni e addirittura del 99% contro i casi di malattia. Questi ovviamente sono dati molto buoni, sono dati però che hanno un follow up non lunghissimo, inevitabilmente dovranno essere confermati, però è improbabile che scendano di molto, potranno scendere di un po', potranno arrivare magari al 90%, però è improbabile che vanno sotto. I vaccini avete riscontrato se sono efficaci anche sulle varianti? Sì, abbiamo questo studio sulla variante inglese in particolare, perché la variante inglese è quella che circola oggi di più ovviamente in Italia e in Abruzzo ha dominato la variante inglese, siamo arrivati all'80% e i vaccini sono stati molto efficaci sulla variante inglese, in linea con la letteratura internazionale per fortuna e quindi questo ci rassicura ci dà molto, ci dà molto conforto. Ovviamente non sappiamo ancora le altre varianti, quelle di preoccupanti che sono poi quella sudafricana e quella brasiliana. Circolano poco, per fortuna nel nostro paese ancora non sappiamo bene quanto funzioneranno, ma si speriamo. Lei che stima si è fatto, diciamo una previsione sul futuro, quando con questa campagna vaccinale che andrà avanti riusciremo davvero a liberarci dal Covid? Eh, questa è una bella domanda. Ovviamente se l'efficacia dei vaccini è confermata, di questo livello, intorno al 95-90%, e se ci vacciniamo in tanti e se arriviamo ad avere il 70-80% della popolazione vaccinata, insomma, più l'arrivo dell'estate, che sappiamo ridurre ovviamente i casi, insomma dovremmo andare verso un finalmente ritorno alla vita.